Musica Mister Stronconi, una vittoria importante è quella di oggi, tre punti preziosi che ci fanno avvicinare sempre più al nostro obiettivo finale. Sì, tre punti preziosi perché vengono anche dopo un periodo in cui c'erano le prestazioni ma non c'era il risultato, ma noi eravamo convinti di quello che stavamo facendo perché i ragazzi stavano bene, la squadra si stava esprimendo bene, quindi non c'era da preoccuparsi, tant'è che oggi è venuta una vittoria con i buonissimi primi 30 minuti dove abbiamo schiacciato il segnale nella loro metà campo, abbiamo palleggiato dentro per poi trovare l'ampiezza fuori e abbiamo fatto male sulle ampiezze, quindi loro sono stati bloccati sulle fasce, era il loro punto forte e quindi bene, tre punti d'oro. Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che lotta per la scalata ai play-off? Sì, sì, infatti si parlava anche prima con il loro allenatore, era un obiettivo che stavano cercando appunto di raggiungere e quindi anche loro lottavano con un obiettivo importante, è una squadra che nella partita di campionato, nella partita di coppa appunto noi eravamo usciti sconfitti, quindi l'abbiamo affrontata con tutta l'umiltà e l'attenzione possibile e questo poi si è tramutato in campo in un gran primo tempo. Prossimo turno, il Figline sarà ospite al Gino Bozzi contro la Rondinella, un match decisivo per la classifica. Sì, è decisivo per la classifica perché potrebbe darci la matematica, stiamo aspettando la matematica per poter esultare a pieno. Matteo Serrotti, da due partite stiamo vedendo il vero Matteo a Figline? Sì, diciamo che ho acquistato più condizione fisica, era tanto che non giocavo, ma anche penso l'integrazione con la squadra. Comunque ci vuole quel tempo per trovare affinità con i compagni. Un po' anche la posizione in campo perché ti abbiamo visto fare l'esterno, ti abbiamo visto fare il finto 9, magari nel mezzo, nel fulcro del gioco ti trovi più a tuo agio. Sì, allora io ho sempre fatto il centrocampista, quindi il ruolo del centrocampo l'ho fatto tutti. Quando sono arrivato mi sono messo a piena disposizione dell'allenatore e sicuramente negli ultimi anni questo è un ruolo dove mi trovo bene, mi trovo meglio. È un ruolo che non ho mai fatto perché ho sempre fatto la mezzala, però negli ultimi anni è un ruolo che mi piace. Parliamo della gara di oggi, una grande vittoria, quest'oggi del Figline, era da un mese che non facevamo il bottino pieno. Come hai visto la gara? Sì, allora è stato bello intanto tornare a vincere e farlo in casa. Non era così scontato come è sembrata perché il Signo è una buona squadra. Siamo partiti forti, potevamo fare due o tre gol. Poi è normale, non è che c'è stato un calo secondo me, è che il Signo comunque ha alzato la pressione e noi comunque nella seconda parte del primo tempo abbiamo gestito un attimo. La situazione era impensabile di poter fare tutto quel primo tempo a quell'intensità. E poi siamo stati bravi a fare la seconda rete subito, inizio secondo tempo. Un gran gol di Gabriele Vangi che in pratica ha tagliato quasi le gambe al signa. Non si è rivisto più tanto in attacco, solo l'ultimo tiro che ha scheggiato la traversa, ma ormai i giochi erano fatti. Sì, Gabriele Vangi in area di rigore è letale. Domenica prossima, senza stare a fare tanti giri di parole, con Punto andiamo in Serie D. Quindi ci vorrà la tua esperienza contro la Rondinella, ma soprattutto la squadra che abbiamo visto questo pomeriggio. Sì, sappiamo che erano tutte finali, quindi lo sarà anche domenica per coronare questo obiettivo che c'è da quest'anno e anche dall'anno scorso.